Questa è la situazione che ci siamo trovati di fronte. Questa mattina su Viale Ovidio ci sono gli operai del comune, c'è la polizia municipale perché la strada verrà chiusa, aperta solo al passaggio pedonale e la situazione in realtà è molto più grave di quella che si era prospettata ieri sera perché a crollare non è stato il muretto che dà sulla strada ma sono state proprio le mura urbiche. Lo vedete nel cerchio che l'operatore Donatello Ricci sta inquadrando. In pratica sono le mura che cingono il giardino del convento delle suore di San Basilio probabilmente a causa delle piogge, a causa della pianta che ha fatto pressione e questa è la situazione. Questa mattina c'è stato anche un sopralluogo perché il danno è evidentemente importante trattandosi di un patrimonio storico notevole, rilevante per la città e si dovrà capire quindi come intervenire. Una nuvola di polvere ieri sera intorno alle 21 ha invasso la strada che arriva al circolo tennis Peppe Verna in pieno centro. In pratica si sono staccati dei sassi dalle mura urbiche finendo in mezzo alla strada e danneggiando anche il muro di contenimento tra via Leovidio e via Monte Orsello. Il muro, si tratta delle mura antiche che poi hanno fatto cadere anche il muretto sulla strada, accenuto sicuramente a causa della pioggia battente che gli era interessato la città. Ma creare il problema potrebbe essere stato anche un grande albero che crescendo si è incastrato tra le mura facendo pressione. Non ci sono state conseguenze, per fortuna una macchina era parcheggiata a qualche metro e poteva accadere una tragedia se solo qualcuno fosse passato in zona in quel momento, perché la caduta è stata improvvisa. Ogni giorno quella strada viene utilizzata per accedere al circolo tennis e per parcheggiare. Le mura sono quelle che corrispondono dall'altro lato al giardino delle Suori di San Basilio. Tutto è partito da lì. Va da sé che l'intera cinta murale avrà bisogno di una valutazione approfondita per capire i rischi e la reale situazione di ammaloramento delle mura. La paradossale che l'unia della sorte si è avvenuto nel giorno della frana sulla 24. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato ieri sera e le immagini hanno fatto il giro del web, come pure le polemiche da parte dei cittadini per la manutenzione. Stamattina sul posto per un sopralluogo c'era nel sindaco Biondi, il titolare USLA Provenzano, la soprintendenza ai tecnici dei Vigili del Fuoco per capire come intervenire e soprattutto l'entità vera del danno, che però a occhi e croce sembra notevole.